è stato un piacere, ci vediamo ui fai buon Natale portati il panettone, pigliati il panettone ci vediamo, ciao, ciao ci vediamo al veglione eh, bella camparta vai, vai, vai vai giammaria, giammaria venite un attimo, scatatemi una spintarelle una spintarelle siete pronti, vai, 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 spingi, spingi vai, vai aia 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 brilliant l'avventura dei nati per di mercele continua l'avventura dei nati per di mercele ma che in Napoli non ha mai penso l'Aia 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 sono tutto a lice l'Aia 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 la bra Grazie a tutti 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 Grazie a tutti